Ammestamente il fatto di essere al primo anno qui nella Sulla Rega, so che sicuramente sono dei campionati più importanti, che si fanno in un mondo mondiale, perché con il lavoro, con l'entusiasmo e soprattutto con il lavoro quotidiano, io credo in questo, risolveremo, se ci saranno delle cose. Il giocatore che abbiamo preso, che abbiamo sempre pensato a noi senza strafare, perché i giocatori in giro ci sono stati grandi, ma loro si stanno con il mondo della partenza del sport, ci sono stati. Abbiamo fatto una squadra in base a base che avevamo, una squadra che certamente ha bisogno di lavorare molto insieme, ma io penso che il nostro campionato è abbastanza non complicato, ma è abbastanza difficile. Per me che è difficile, è difficile. Certamente affrontare le squadre delle prime cinese giocate come Macerà, come Civitanova, Perugia e Trento, come ho detto prima, non ci deve spaventare niente. Noi anche abbiamo una squadra, magari dove non ci sono nomi importantissimi, però abbiamo una squadra che secondo me si lavora di gruppo, si lavora con l'idea di squadra. Grazie. 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 Grazie.